Sì, sono le ultime otto partite, andiamo a Cittadella a vincere come tutte le partite. Sicuro la Cittadella è in forma, però noi non guardiamo loro, noi guardiamo noi stessi, dobbiamo dare tutto e provare a vincere. Sì, secondo me siamo vicini, però manca qualche vittoria, non dobbiamo rilassarci, dobbiamo stare concentrati e dobbiamo giocare le partite come le abbiamo giocate. Per me io posso dire di no, so che adesso giochiamo contro Cittadella e poi contro la Brescia, però non abbiamo fissato niente. Speriamo che matematicamente saremo in Serie A più presto, però non abbiamo fissato niente. Ho prolungato il contratto, però per adesso sto pensando solo per il Carpi. Voglio concludere questo campionato come il primo in classifica e poi il prossimo anno vado a Palermo e vedremo cosa succederà là. Forse se non giocherò là, forse anche tornerò. Grazie. 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 Grazie.